Musica 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 Ciao, sono qua con Sergio Ciao Sergio Di due team, una vittoria 3 a 2 molto combattuta Molto combattuta, siamo contenti mi ha fatto un bellissimo secondo tempo ho sentito, intenso dobbiamo ancora migliorare la statura di gioco ma siamo soddisfatti Anche due grandi Euro goal avete fatto Due grandi Euro goal Siete partiti un po' male forse Sì, considero che è una squadra nuova quindi dobbiamo un attimo prendere le misure con ruoli, tempi e quant'altro, però ci conosciamo tutti siamo un bel gruppo e la partita di oggi ci dà soddisfazione Grandi contropiedi veramente grandi trame anche se vi conoscete da Poc comunque Sì, ci conosciamo fuori dal campo in campo ancora da migliorare quindi, però, devo dire, grandi contropiedi potremmo spuntarli meglio più della prima, però devo dire che era un ottimo avversario quindi è andata molto bene In bocca al lupo Ciao